Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più, a volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Il cuore è l'ultimo ad andarsene. Lui continua a battere, anche quando viene sottratto all'organismo, anche quando la persona amata ti abbandona, anche quando tu non vuoi più soffrire. Non sei più tu che comandi, quando sei innamorato, quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona. Non sei più tu che comandi, è lui. Questo manuale sull'amore vi guiderà attraverso le varie fasi dell'eterno sentimento. Una vera e propria guida senza la presunzione di insegnarvi nulla, ma solo con la consapevolezza che certe persone, quando sono innamorate, si trovano in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. In questo manuale si attraversano le arterie più calde dell'amore. L'uomo non sa perché si innamora. L'uomo viene travolto e basta. A volte diventa ridicolo, a volte confuso, a volte addirittura pericoloso. Noi vi aiuteremo. Se avrete la costanza di seguire questo percorso insieme, capirete molte cose sull'amore. Ora prendete il telecomando e andate alla traccia numero uno di questo cd. Buona fortuna. Io ho finito. Ci vediamo giovedì. Grazie a tutti.